Tanta guagna per tutti ragazzi qui Mr. Black e siamo tornati ancora una volta su Plants vs. Zombie Allora ragazzi l'ultima volta siamo rimasti che avevo sbloccato 500.000 coins in pacchetti figurine Ho sbloccato praticamente tutti i personaggi super rari del nuovo DLC Adesso siamo qua e sempre su Tombe Giardini che è la modalità come vi ho detto nelle precedenti puntate In cui si fanno molti 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 punti Allora ragazzi mi avevate chiesto di provare lo Sparascheriffo Io lo provo perché è uno di quelli con cui mi sono trovato meglio questi giorni Nella mia assenza diciamo che ho provato Voi non so se avete visto l'ultimo video ma io diciamo ho provato un po' tutte Oh porca putt... ecco vedete è molto potente il Sparascheriffo Mi piace Unica cosa che ha pochissimi colpi Aio In canna anche se effettivamente leva parecchio Toglie parecchio il nemico Eccolo guarda come muore E no e no Allora la caratteristica di questo Sparascheriffo è che c'ha Il cappellino Ha la proboscite del buco Il cannoncino davanti nella bocca un po' più prolungato rispetto alle altre Sparasemi Guardate quanto leva Quasi 30 a botta Però bisogna essere abbastanza vicini Ecco sono crepato Bastardo Poi ho provato L'unico che non ho provato di tutti quelli che ho sbloccato l'ultima volta È stato il Farasole E devo dire che anche Anche molti Anche voi molti mi avete chiesto di provarla Ma ho deciso Per questa puntata di provare Lo Sparascheriffo Vediamocelo un attimo Quindi ha 6 colpi Di rivoltella Come vedete in basso E come le Sparasemi Ha la qualità di andare all'assalto Un po' come il Fante Insomma È la stessa tipologia di Aiuto 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 Non mi fare male Non mi fare male Non mi fare male Scienziato di merda Pezzo di merda What does the fox say? Non so se avete visto Questo zombie qua Aveva Quello che mi ha ucciso Aveva la maschera della Della volpe E sempre introdotta Con un accessorio Introdotto con il DLC Ah non so se sapevate Che sono state introdotte Le nuove transazioni Microtransazioni Sempre qui sul Su plants E ovviamente siete liberi Di comprare O meno Quindi non è che Adesso Diciamo Il gioco è sempre lo stesso Non cambia nulla Unica cosa Devo dire che è uno Dei giochi migliori Secondo il mio punto di vista Perché non 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 Limita il giocatore A dover comprare Necessariamente Coins Quindi se voi volete Avete tempo per Per giocare Da dedicare al gioco Potrete Semplicemente Sbloccare i coins Giocando Mentre Magari Non ha molto tempo Di disposizione Vorrebbe giocare Un po' con tutti i personaggi Si potrà comprare In sostanza In maniera indiretta I coins E scusate i personaggi Tramite l'acquisto diretto Dele monete Insomma Dei coins Allora Guarda la roba che abbiamo sbloccato Mamma mia Come stiamo messi noi qua Porca puttana Vieni qua Dove cazzo vai Dove cazzo vai Vai con la gattling Vai con la gattling Muori 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 Dai Tutta la mitragliatrice Adosso Incredibile E' sempre sto stronzo Con la volpe Bellissima la maschera A me piace Anch'io la voglio Allora che sfida abbiamo Da sbloccare Allora schernisce un avversario Ecco C'ho questa sfida qui Aspettate un attimo Porca puttana Penso io Penso io Ci penso io Si Yeah man What you want man Lascia levati Allora abbiamo Quali sfida abbiamo Abbiamo Maestro della beffa Questo per il livello 9 Schernisce un avversario Subito dopo averlo eliminato Tre volte Io adesso non so che significa Schernire Se devo saltargli addosso Non ho capito Boom Boom No Schernisci 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 Devo provare a capire Se Se gli devo fare qualcosa Di specifico Se gli devo saltare sopra O forse Ah Forse devo fare un po' così Una di queste mosse qui Vediamo Proviamole Proviamo sta sfida va Allora La ricerca Del bastardo Aio Pezzo di merda A me niente perché Quando lo uso io Il fante E sparo il super razzo Non ne ammazzo mai uno Spiegatemi sta cosa No spiegatemi sta cosa Spiegatemela Vai Niente Porca paletta Guarda C'è lo squalo C'è lo squalo nel posto Da pistola Potentissimo Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Andiamo così Aio Ah qui ci piantiamo Le più forti Che sono Queste Allora 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 Dobbiamo schiernire L'avversario Schierniamo L'avversario Aio Pezzo di merda Niente Allora La gathering Non va usata Come la uso io Perché sennò È inutile Dovete mettermi Nei posti alti Se avete i fanti Specialmente i fanti Che hanno Una lunga portata Una bella portata Nel 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 attacco E dovete Oh È morto L'uscide Dovete mettermi Nelle postazioni più alte Ovviamente anche Spara semi E quant'altro No Qua Esatto Bravissimo E da sopra Sganciamo le bombette Sentite che botto Sentite che botto Boom Mamma mia Ti dà le palle No Me l'avete ucciso Siete dei maledietti Siete Vieni qua Vieni qua Dove scappi E lo fa fuori Aio aio Mi stanno tritando Niente Tritato vero Vera 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 Yeah Yeah Wow Pezzo di merda Ti vengo a prendere Allora Poi Mastica zombie Ragazzi Se le sapete usare Fate Fate il delirio Veramente Sono pericolosissime Però bisogna Saperlo usare Non è Aio Aio Dovete essere Un peletto Più tattici Con le mastica zombie Vedete Corri Fate Andate Soprittite Sparate a rotella E fatta Allora Allora Calmi Calmi Calma il sangue freddo Calma il sangue freddo Sventolo Il fagotto nuovo Il fagottissimo Fagiolotto Boom 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 Madonna Madonna Quanto me è eccito Quando faccio Boom Sparaccio il sceriffo No Dobbiamo riuscire a schernire Scherniamo Scherniamo Andiamo a schernire O a schernire Allora scherniamo Che si fa a schernire Non so come si fa a schernire Non so come si fa a schernire Che devo fare L'ho saltato Ho fatto tutte le mosse Sì L'ho schernito Non so come Va bene Quindi uno ce l'ha preso Andiamo con l'altra Si tratta semplicemente Di toccare uno dei tasti direzionali Ma non Aspettate che non capisco Boom 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 Via 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 Poi ci metteva una piantina Fiorellosa Grande Fiorellosa Lascio 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 Andiamocene Lascio Lascio Via 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 Madonna Madonna No Come hanno fatto Ma c'ero io Bello Non te che botti No Ma hanno tritato Ma hanno tritato Aio Eh sì Che è Guarda Vi faccio vedere come se usa La spara Scheriff Dai dai Ci sono Ci sono Sono prontissimo Prontissimo Rapidissimo Prontissimo Allora Si va sopra questo tetto E si fa in nulla Facendo i camperoni Guardate Qua Là Poi si mette questa Sta così Ole Uno E Due No 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 Eh Madonna Che precisione Allora Attenti Attenti Calma Calma Allora Appena ne arrivano Due o tre Si sgancia il fagiolotto Anche il fagiolotto Aio 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 Stanno facendo male Questo qui Questo qui Questo qui Nascosto lì Sono perso di merda Olè Al volo Al volo A Tripla No raga No raga no 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 raga no No raga no Olè Oh Mamma mia ragazzi Punti Mamma mia ragazzi Punti Ha fatto una serie Potentissima Oh vi do un consiglio Dovete cercare sempre Di mantenere una serie Perché facendo le serie Vi da Vi da molti Molti punti E su tombi giardini Mantenendo la serie Riuscite ad arrivare Anche a 20.000 punti Già siamo Siamo lì Siamo lì Potentissimi Qua Una posizione molto bella Per la spara semi È questa Vi posizionate qui dietro il fiore Perfetto E qui è la strage E qui è il delirio Qui è il delirio Perché loro entrano E noi qua li trittiamo così Li trittiamo così Madonna Guarda che roba Avete visto quanto Quanto siamo potenti Da questa posizione Aiuto Eccolo Sì Schernito Vai In questo caso ho spinto Il tasto direzionale alto Vai grande ragazzi Madonna Madonna Olè No abbiamo perso Parca paletta Va bene lo stesso Abbiamo fatto parecchi punti 11.000 punti addirittura Veramente Veramente bene Bene Molto bene Siamo andati anche tardi Ok ragazzi Il video finisce qua E Oggi vi ho portato Lo spara sceriffo Delle piante Eccolo qua ragazzi E nel prossimo episodio Scegliete voi Quale personaggio Dovrà usare Allora abbiamo Rimaste Della Zombostown La massica zombie Corazzata Eccola qua Modificata a pennello E' rimasta Il Farasole Che sarebbe Gerasole Ma In veste di faraone Poi abbiamo Poi abbiamo Cactus Gelato No L'Elettro Cactus No Il Cactus Fuori legge Eccolo qua Questo Abbiamo Poi Nelle Nella categoria Zombie Abbiamo Su lato di cieli Che l'abbiamo Già visto Il Meccanico Eccolo qua Meccanico Viene a me Eccolo Poi abbiamo Il L'archeologo Che sarebbe Lo scienziato Eccolo qua E poi abbiamo La stella Del wrestling Che vi ho fatto vedere In un Dei precedenti Episodi No non è vero Però è bello dirlo Ok ragazzi Scegliete voi Quali personaggi Vedere Nel prossimo episodio Mettete un bel like Qui sotto Ci vediamo Nel prossimo Episodio Qui Mr. Black Per oggi è tutto Tanta voglia per tutti Yeah Ciao Ciao Ciao